Trasferitosi assieme alla famiglia negli Stati Uniti da bambino, Montagna cambiò nome in Lewis Montagna. Divenne un wrestler, assumendo come pseudonimo il nome di Bull Montana. Si diede poi al cinema, partecipando a diversi film del suo amico Douglas Fairbanks a partire dal 1917. Nel 1925. Date le sue dimensioni e il suo aspetto. Gli fu data la parte dell'uomo scimmia nel film Il mondo perduto. Protagonista di una propria serie di commedie nei primi anni venti. Montagna continuò a recitare nei film fino alla fine degli anni trenta. Principalmente nelle parti dell'antagonista, nonostante l'aspetto fisico ed il suo background da wrestler. Bull Montana è da sempre stato reputato un gentiluomo per i modi gentili ed educati che lo Contradistinguevano nella vita, nella sua carriera cinematografica, durata dal 1917 al 1937. Partecipò a quasi 90 film. È morto il 24 gennaio 1950 a Los Angeles. All'età di 63 anni, il suo corpo venne sepolto nel calvari cemeteri di Los Angeles.